Ciao! Bentornati su Cose dell'altro cinema. No, non sono impazzito. Sto guardando questa serie, sono arrivato al sesto episodio degli Anelli del Potere. Molti saranno increduli. I nuovi iscritti invece si chiederanno come mai tanto casino, tanto rumore, perché questo preambolo così austero. Il fatto è che chi mi conosce da tempo, chi è iscritto a questo canale da tanto tempo, questo canale sta in piedi da 16 anni, quindi mi rendo conto che ci siano molti aspetti da recuperare per chi si è appena iscritto, però sa perfettamente che io detesto il Signore degli Anelli. Detesto. Ho provato a leggere il romanzo e mi sono fermato alla cinquantesima pagina, forse, mentre Tolkien era ancora troppo intento a descrivermi per filo e per segno la contea per cominciare ad intessere una trama, una storia, un intreccio. E quindi io, arrivato alla cinquantesima pagina e sentendomi come se stessi consultando il dépliant della prologo della Terra di Mezzo, ho deciso di mollare la lettura del romanzo. Ci ho riprovato con la trilogia al cinema, quella di Peter Jackson, e se dal punto di vista della fattura, se dal punto di vista del lavoro cinematografico, ma anche proprio come espressione del cinema degli espedienti, perché il budget era veramente risicato per un'opera così enorme, l'ho apprezzato come film, come trilogia, come prodotto, ho ovviamente veramente odiato quello che è l'incedere della trama, l'intreccio. Sto mondo che sta per morire, tutto è nelle mani di sto coso basso, coi piedi pelosi, solo perché lui è un bravo ragazzo. Cioè, ci sono cose nel fantasy che io proprio non tollero. Le trovo forzature, la compagnia dell'anello, cazzo, sta per esplodere il mondo. Sta per succedere qualcosa di gravissimo, ci mandate quattro persone. Cioè, è possibile che le legioni, gli eserciti, li impiegate soltanto per fare ammazzate mentre sto nano butta l'anello e non impiegate 200 persone, le più forti di tutti i regni, per buttare sta anello in un vulcano. No, la compagnia deve essere piccola, perché no, no, missione segreta. Mille, mille burocrazie solo per far andare le cose in quel modo. C'ho l'odio, ragazzi, c'ho l'odio e io odio la narrazione fantasy perché per quanto mi riguarda è vagamente narrazione, il resto è semplicemente un contesto gonfio, tronfio e per quanto mi riguarda inutile. Quella è la caratteristica del fantasy che odio di più, cioè la trama, l'intreccio, sono assolutamente soffocati dal gigantesco contesto che c'è intorno. Gli amanti del fantasy amano immergersi in un contesto ben descritto, molto dettagliato. A me quella roba lì, più che sminuzzare i testicoli fino al quark, non fa. Quindi, raga, scusatemi, ma io detesto il fantasy. E so che molti là fuori mi diranno, eh, ma tu detesti live fantasy. C'è anche un altro fantasy che tu però non conosci perché in 38 anni non ti è mai capitato di vederlo perché è nascosto, ce l'ho io in cantina, ce l'ha mio cugino, non l'hai mai visto, ma quello è fighissimo. Ragazzi, anche a me piacciono molte opere dark fantasy. Se mi chiedete qual è il mio fumetto preferito vi dico Berserk. Fino a che l'autore, Kentaro Miura, che riposi in pace, non ha letto Il Signore degli Anelli o non ha visto la trilogia e ha cominciato a fare quella merda lì nel suo fumetto, allora l'ho lasciato. Ma fino a un certo punto, per me, Berserk, è una delle opere scritte meglio che mi sia mai capitato di leggere. Ci metto in mezzo anche la letteratura internazionale, cioè è veramente incredibile ed è fantasy. Dark fantasy, quello che volete, però per me è il top. E perché il top? Perché non si parla dei cazzo dei massimi sistemi. In Berserk è tutto molto intimista. Non c'è questa voglia megalomane di allargare sempre tutto. Cioè, fateci caso, si parla sempre di mondi che vengono generati da entità potentissime. Non si sa mai bene quali sono questi poteri, ma entità potentissime. Legioni che si scontrano, che marciano verso est. Legioni di orchi slash del caos slash di quello che vi pare, ma è sempre la solita solfa enorme, gigantesca. E a me quella roba non mi piglia. Non mi prende. Quando è che riesco ad appassionarmi a un'opera fantasy? Quando riesce a trovare la sua intimità. Quando riesce a farmi veramente affezionare ad un personaggio perché non è inserito in un contesto di 30.000 personaggi. In questo Game of Thrones per me ha fatto un miracolo perché è riuscito a farmi amare dei personaggi che, nonostante prendano parte ad eventi enormi, riescono ad avere nel loro piccolo un microcosmo narrativo che seguo con molto piacere. Il Signore degli Anelli per me è un microcosmo di rotture di coglioni, una dietro l'altra, concatenate proprio in maniera sapiente da uno dei supplizianti letterari più abili che io abbia mai conosciuto, ovvero il buon Tolkien. Quindi, questo gigantismo non mi ha mai preso. Ma poi in realtà mi fa lo stesso effetto che ti fa quando stai mangiando il tonnarello al pomodoro, in televisione passa il telegiornale e ti manda questa catastrofe. In un isolotto sperduto che tu non sapevi nemmeno esistesse, un vulcano ha eruttato e sono morte 12.000 persone. 12.000 persone, una tragedia immane. Però tu poi torni al tuo spaghetto. Quando il spaghetto è finito, tu hai pure dimenticato quello che hai visto al telegiornale. Mentre se il giorno dopo, passando per strada così, vedi sto vecchietto, no, col bastone, 103 anni, no, vecchissimo, col bastone, una macchina lo schiatta, lo mette sotto, tu la strisciata di sangue sull'asfalto non te la togli dalla testa per tutta la vita. Ti svegli di notte, matido di sudore, pensando a quella scena. Quella con il vecchio di 103 anni, che rispetto a tutti i bambini dell'isolotto infuocato, non è niente come tragedia. Ok, il vecchietto di 103 anni per te diventa una cosa... Devi andare in terapia per togliertela dalla testa. Ecco, questo è quello che dico. Per me il fantasy è l'isolotto di cui nemmeno sapevo nulla nel mare del sud, che piglia fuoco perché erutta un vulcano, non conoscevo nessuno, che però il vecchietto che mi schiatta davanti, che come tragedia, ripeto, è infinitamente minore, mi colpisce di più. Il vecchietto è una storia come piace a me. L'isolotto al telegiornale, quando ho il tonnarello in bocca, è il fantasy. Penso di non potervi descrivere meglio come mi sento rispetto a queste opere. Così gonfie, tronfie, legioni. Sti cazzi, ok? Quindi, Gli anelli del potere, per me era potenzialmente un'opera velenosa. Velenosa non tanto perché mi avrebbe ucciso, ma velenosa perché mi avrebbe narcotizzato. Di questo ero quasi sicuro. Invece, sorprendentemente, mi sono addormentato soltanto una mezz'oretta sul terzo episodio. Che è veramente una rottura di coglioni. Però, generalmente, reggetevi forti, tenetevi forti. Non mi è dispiaciuta. Cioè, mi ha fatto molto più schifo lo Hobbit. Molto di più. Qui, diciamo che, cioè, ci sono chiaramente delle cose che proprio gli avrei sputato. Però, pensavo peggio, pensavo che mi avrebbe fatto un effetto molto, molto, molto peggiore. Anche perché, in tanti, ho visto che hanno scritto sui social, Madonna che rottura di coglione, è pesantissima, è una serie noiosissima. A me non è sembrata, cioè, ho dormito perché ho dormito al terzo episodio, però non mi è sembrata così un macigno. Sarà che io sono stato forgiato da anni e anni di cose che di pesantezza ne hanno proprio accarrettate. Però, per me, non è questa una roba pesante. Volevi vedere una cosa pesante? No, non può essere una bestia viva con un cervello umano. Va, trova McKenzie e uccidilo. Sì, uccidi McKenzie. Mi hai capito? Ah, ragazzi, scusatemi, questa clip mi ha messo una sonnolenza addosso. Meno male che è venuto Kobe a svegliarmi. Comunque, l'attitudine zero, se soffrite di insonnia, è la vostra medicina. Questo è un film del 1969 che tratterà i vostri testicoli come un pungipo, al garantito. Certo, sarebbe una bella seccatura se doveste espatriare per lavoro e scopriste che lì dove siete atterrati, questo gioiellino narcotico non è presente nei cataloghi di streaming. In quel caso, se volete curare la vostra insonnia anche lì dove siete andati a lavorare, potreste usare NordVPN e connettervi in quel posto sperduto proprio come se foste ancora in Italia. Comunque, tranquilli, è tutto assolutamente sicuro perché NordVPN ti fa fare queste magie ma te le fa fare in sicurezza. C'è un sistema anti-malware, anti-spyware che ti protegge da tutti i contatti dannosi, per esempio quei messaggi un po' sospetti che ti avvisano che il tuo pacco Amazon è in ritardo. Con il link che ti lascio qui in descrizione avrai accesso a uno sconto bello cicciotto a quattro mesi gratuiti sul piano biennale e soprattutto alla formula 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Che è una gran bellezza perché provi il servizio, non lo prendi a scatola chiusa. Ma adesso torniamo nella terra di mezzo. Non è che non mi sia piaciuto l'impianto fantasy perché in effetti ha un focus molto molto maggiore sui personaggi, sulle loro emozioni. Sarà che è una serie, non è una trilogia di film, sarà che si sono presi molto più tempo, forse proprio per quello può risultare un po' lenta. Però secondo me hanno giocato molto bene, non con tutti i personaggi, alcuni se li sono giocati malissimo, adesso ne parliamo, però alcuni di loro sono interessanti e adesso prenderò il mio telefono. Questa storia è una storia estremamente corale. Alcuni degli elementi, alcuni dei personaggi e alcune delle situazioni andranno a confluire. Di questa cosa me ne sono accorto intorno al quarto o quinto episodio quando cominciavano ad unirsi alcuni fili, no? Alcune situazioni che sembravano completamente slegate vanno a collegarsi e adesso mi aiuterò con il telefono per ricordarmi i nomi dei personaggi. Dunque, diciamo che il frodo della situazione o comunque sia la figura centrale di questa vicenda è Galadriel. Per dirla alla Game of Thrones, Galadriel è un po' Daenerys. All'inizio sembra che abbia una storia tutta sua, ma poi questa storia va a confluire in tutte le altre, vuoi o non vuoi. Qui c'è Galadriel, che è un'elfa decisa, convintissima, a estirpare ogni singola traccia dell'esercito di Sauron, perché la guerra si è conclusa. L'esercito di Sauron è stato sconfitto, ma qua e là c'è ancora un po' di stipsi di guerra. Lei continua a pensare che Sauron sia da qualche parte a dormire, che il male sia addormentato e prima o poi tornerà. Questa è un'altra cosa del fantasy che proprio non tollero il concetto del male addormentato. Cioè, quando mi dicono hanno risvegliato il demone, era stato sigillato dalla chiave di Gastulbern e adesso si sta svegliando, l'hanno liberato, era chiuso lì da tremila anni, tremila anni, è bella, cioè, poetica, quest'idea del male addormentato, il male dorme in attesa di tornare, molto poetica. Però se ti stacchi da questa roba spicciola, da questa poesiola spicciola, e cominci a pensare ok, demone chiuso in una stanza per tremila anni. Pensa soltanto questo, in maniera pragmatica, in maniera lineare, un demone chiuso in una stanza per tremila anni. La prima immagine che ti verrà in mente è sto demone che si ammazza di seghe guardando dei geroglifici. È la prima cosa che ti viene in mente che vuol dire tremila anni? Chiuso, dorme da tremila anni. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È chiaro che il demone, appena lo liberi, non è che va a devastare il mondo. Va a mignotte. È la prima cosa che fa. La prima. E poi cerca un amico per fare due chiacchiere. Che cosa signi il male addormentato? Queste cose io non le sopporto. Sono quella parte del fantasy che finché la reciti così funziona. Quando dici oh, sto stronzo ho chiuso là dentro da tremila anni, ma che sta a fa? Ti crolla tutto. Qualsiasi pensiero epico crolla, viene devastato. Per lo meno è la mia testa, non so, è la vostra. Comunque, Galadriel, lei cerca questa stipsi di Sauron in giro per il mondo ed è talmente determinata nel fare questo che porta con sé alcuni suoi pari, altri elfi immortali e ricorda a tutti loro che se la seguono sono immortali un paio di coglioni perché continuano a morire come mosche perché lei li porta in missioni folli alla ricerca di questo Sauron. Lei ce l'ha un po' su con Sauron perché suo fratello è morto proprio in questa guerra e quindi lei raccoglie il testimone e non vuole saperne. Cioè lei proprio ha questa fissazione della guerra. Però per quanto possa sembrare che la sua parte di storia sia molto ricca d'azione perché in effetti è un personaggio combattivo è molto più simile la sua storyline a quella di Daenerys che a quella di un guerriero X perché in effetti dopo questa prima fase in cui capiamo che lei è super agguerrita subito si torna agli alti palazzi degli alti elfi degli alti alberi ed è diventa la sua una sorta di missione diplomatica perché i signori degli elfi non la appoggiano in questa sua idea allora va a chiedere aiuto altrove per trovare rinforzi. Lei è molto forte è un'elfa immortale ricordiamo finché non l'ammazzano perché gli elfi sono immortali se gli lasci là se gli cade una tegola in testa muoiono quindi lei ha bisogno di aiuto per portare avanti questa sua battaglia ed è proprio convinta di doverla combattere. e quindi viaggio super ultra diplomatico con sprazzi di azione ci torniamo sul personaggio di Galadriel e ci torniamo anche sugli elfi però per il momento un'altra storia che mi è piaciuta molto è quella di Elrond sto leggendo i nomi ragazzi non me li ricorderò mai Elrond è questo giovane elfo giovane nel senso c'è soltanto 8-9 mila anni un ragazzino praticamente che viene convinto sempre dall'alto consiglio degli elfi ad andare a chiedere aiuto a un suo vecchio amico un nano di nome Durin lui all'inizio non sa perché è stato mandato lì o perlomeno propone lui di andare a parlare con questo nano però in realtà è tutta una macchinazione per convincerlo a estorcere dei segreti minerari a questo nano ora nonostante anche qui ci siano degli elementi troppo fantasy la parte che mi piace di questa storia di Elrond è il fatto che lui sia veramente molto amico di questo Durin però si sente in colpa perché sono 20 anni che non si sentono ora per lui che è un elfo 20 anni è come per me una settimana ma per questo nano è stato un abbandono cioè 20 anni no e quindi è un po' come quando non senti un amico da tanti 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 anni e c'hai pure vergogna a chiedere come stai perché insomma si è vero non si è fatto sentire manco lui però pure te sei stato una merda quindi è un po' questa situazione e secondo me è raccontata benissimo è molto bella molto interessante questo rapporto tra i due come al solito ragazzi non i massimi sistemi a me colpiscono queste cose le cose piccole sentite belle che potrei che potrei aver vissuto anche io no l'ultima volta che ho visto una legione di qualcosa ero a Mirabilandia e stavo facendo la fila comunque torniamo al nostro ecco abbiamo un'altra linea narrativa che è quella di Nori Nori è una pelopiede lei è una pelopiede credo siano gli antenati degli hobbit perché sono piccolini hanno i piedi pelosi e non sono sicuramente un popolo guerrafondaio sono molto simpatici sono tranquilli amanti della natura questi sono nomadi nomadi ora io da quello che so degli hobbit loro hanno la contea e cazzo se si muovono da là impazziscono cioè loro veramente nel film il signore degli anelli c'è anche la scena dove varcano tipo un cespuglio dicono non siamo mai stati così lontani dalla contea questi qui invece questi pelopiede sono nomadi non so se siano il prototipo degli hobbit se poi col passare dei millenni si siano evoluti si siano diventati istanziali però non lo so qui si chiamano pelopiede e non ne sono nulla ragazzi veramente cioè questa roba è tratta da alcune appendici che ha scritto Tolkien come si fa a riconoscere uno che soffre di logorrea letteraria quando tu fai il signore degli anelli l'hobbit il simarillo e poi scrivi pure le appendici è chiaro che non ti sei sta fermo con le mani e quindi è trattata questa roba qui che io però non conosco quindi non so bene come siano impostate certe cose se ci siano dei rimandi so soltanto che questi sono eventi che accadono molto prima del signore degli anelli molto prima dello hobbit quindi prima che nascessero Bilbo Frodo Aragorn tutti questi tranne gli elfi gli elfi sono quelli sono andati avanti per millenni quindi gli elfi ci sono sono gli stessi l'unico credo l'unico punto di congiunzione gli elfi sauron queste sono le cose che collegano le vicende perché sono le cose a lunga scadenza che mi amore così ecco questa nori questa nori questa pelopiede vive in questo in questo posto e lei è una sorta di prototipo di Bilbo Baggins nel senso Bilbo Baggins è attaccato alla sua contea sì è un hobbit a tutti gli effetti però è diverso dagli altri perché lui non è così così tranquillo in realtà è molto irrequieto cerca sempre l'avventura cerca sempre di andare a vedere altre cose e infatti Gandalf si affeziona molto a Bilbo proprio perché ha questo animo diverso molto curioso ecco lei è un po' pelopiede che va va oltre quelli che sono i confini del campo stabilito perché questi sono nomadi ma ogni volta che si piazzano da qualche parte hanno dei confini non li possono oltrepassare ma proprio roba tipo no oltre quell'albero non c'è andare perché è pericolo lei invece è molto coraggiosa molto curiosa e come personaggio è quello più adatto ad accogliere la grande novità nella sua storia la grande novità è questo essere gigantesco che piove giù dal cielo cioè gigantesco magari alto come me però loro sono tutti piccolini e quindi c'è questo essere umanoide che non so se sia un mago un demone un extraterrano non lo so non si sa e per questo la sua storia mi è piaciuta molto c'è questo elemento curioso e io mi sono molto incuriosito non ordinare come cazzo si chiama è un bel personaggio divertente simpatico positivo e la sua linea diciamo così l'ho seguita con grande piacere poi poi c'è un'altra linea interessante tuttavia meno delle altre secondo me quella di Arondir Arondir credo sia che è praticamente questo elfo che è stato messo a guardia degli uomini perché durante la battaglia con Sauron alcuni esseri umani hanno fatto un po' le merde si sono schierate dalle parti sbagliate cioè quelle degli orchi e quella di Sauron loro questi elfi sono lì a controllare questi esseri umani questa popolazione umana perché non si ripeta questo gran tradimento non li stanno sgozzando tutti perché gli elfi comunque si hanno una diplomazia niente male sono lì a controllare che questi non facciano cazzate mo questo Arondir Giuliano Frepponi questo elfo sta lì da così tanto tempo che ha cominciato esattamente come il demone intrappolato ad ammazzarsi le seghe finché non vede questa graziosa umana e dice non ci avrà le orecchie a punta però è molto carina e quindi questi due si innamorano e c'è questa storia d'amore chiaramente questo elfo è un soldato cioè non è il solito colletto bianco cioè non si può parlare di colletti bianchi con gli elfi lui è proprio un soldato è un uomo d'azione quindi in questa parte della grande storia degli anelli del potere perché più è grande meglio è deve essere enorme questa è la parte più terra terra dove c'è tra l'altro più azione ora piccola parentesi poi torniamo a parlare proprio dell'impostazione piccola parentesi l'azione l'azione negli anelli del potere è estremamente altalenante le scene con Arondir Arondir onzi Giulio e molte altre scene d'azione che si vedono sono veramente belle coreografate molto bene nel senso che non sono farlocche cioè non sembra di guardare un balletto gli elfi quando combattono tendono ad essere estremamente puliti tendono ad essere molto precisi a fare solo movimenti utili questo è giusto è giustissimo perché un essere che combatte da 3000 anni a un certo punto non fa un movimento inutile che sia uno ed è super efficace ok è molto bello vederli combattere con questi orchi che invece agiscono soltanto di feroce agiscono soltanto di forza bruta è gestita molto bene questa cosa guardando le sequenze di combattimento si capisce proprio chi combatte come e perché e quindi credo sia stato fatto un ottimo studio le sequenze invece di combattimento con Galadriel sono una merda io credo che l'attrice non si sia preparata affatto perché sono combattimenti di montaggio cioè come i filmacci di arti marziali degli anni 70 e 80 sono montate quelle scene lì cioè non c'è uno stunt che sia uno sono tutte quante soluzioni di montaggio che a guardarle oggi nel 2022 sanno di vecchio da morire e quindi c'è questa differenza c'è una scena in cui Galadriel a destra dei giovani umani al combattimento e addirittura arrivano a combattere in 6-7 contro di lei e lei riesce a tenere tutti quanti a bada vi verrà il mal di testa da quanti stacchi ci sono perché lei veramente oh mi raccomando dai un colpo stop cambiamo stop tutto così ragazzi sembra un videoclip dei primi 2000 non si capisce un cazzo però questo è ma non ho assolutamente disprezzato le sequenze d'azione mi aspettavo che ce ne fossero anche meno di così invece ce ne un buon numero sono abbastanza abbastanza fighe nulla a che vedere con la battaglia dei bastardi di Game of Thrones nulla batte quella roba lì neanche la trilogia del Signore degli Anelli ha una battaglia così bella anzi ma neanche lontanamente quella roba lì è la miglior battaglia campale mai messa su schermo secondo me ci metto dentro anche i colossal della storia del cinema ci metto dentro tutto quella è quando siamo arrivati alla fine di quella battaglia su Game of Thrones ci avevo il cuore che faceva così incredibile pazzesca quindi dal lato dell'azione non mi ha assolutamente lasciato a bocca asciutta torniamo a parlare un po' perché adesso forse ci siamo persi un po' troppo nei tecnicismi montaggi stronzati però torniamo a parlare un po' di questa di questa storia ci sono altri personaggi interessanti però in qualche modo gravitano intorno a questi centri gravitazionali narrativi quindi vanno a confluire un po' su Elrond un po' su Galadriel un po' su Nori e un po' su Arondir quindi bene o male vi ho parlato dei fulcri di questi piccoli microcosmi narrativi e secondo me ci sta funzionano ce ne sono anche altri Isildur questo ragazzo che sta cercando il suo posto nella vita però anche lui in qualche modo viene legato a Galadriel quindi diciamo parliamo soltanto dei perni narrativi ok non mi è dispiaciuto affatto il modo in cui hanno affrontato l'estetica di questo mondo anche se alcune cose mi hanno fatto ridere proprio di gusto io capisco il voler fare le cose belle cioè fighe da vedere però alcune cose mi fanno schifo faccio un paio di esempi quando si entra nelle miniere dei nani si assiste a questo posto incredibile scavato sotto la montagna con questi giganteschi ponti che collegano una faccia della montagna all'altra faccia della montagna e poi dentro queste costruzioni dove i nani vivono e lavorano è una visione incredibilmente affascinante guardare tutte queste strutture solo che se te fai un ponte sospeso a picco su un precipizio di 20 km perché si parla veramente di altezze incredibili metticelo un passamano metticelo questi camminano su delle robe alte chilometri e non c'è un passamano cioè se tu scivoli se qualcuno ti dà una pacca sulla spalla se perdi l'equilibrio sei morto e molti mi diranno vabbè ma è più bello così il passamano avrebbe rovinato io ti dirò ma veramente c'è bisogno di inventarsi un linguaggio un alfabeto elfico di fare tutte queste cose per fare cose precise e poi però mi fai queste cazzate che sono da un lato vogliono rendere tangibile da questo mondo dall'altro sacrificano al dio immagine la sensatezza di alcune cose volete un'altra cosa che mi ha fatto veramente sboccare quando la nostra Galadriel viene rimandata nella sua terra natia per meriti ma sostanzialmente il consiglio degli elfi se la vuole togliere dal cazzo perché è una rompicoglioni ve l'ho detto una cagacazzi fuori scala la mandano nella sua terra natia e c'è questo viaggio in nave viaggio in nave non di un quarto d'ora attenzione viaggio in nave è lunghissimo ci fanno vedere la mappa del mondo e il mare è immenso è un mare immenso quello che lei attraversa io vi giuro quando guardo quella scena ho detto ma come come che messa in scena è che succede di così grave ve lo dico io questa nave durante tutto il tragitto ha gli elfi così in piedi fermi immobili che guardano l'orizzonte io capisco che te magari fai una cerimonia quando parti no quindi finché non lasci il porto stai così no però dopo dieci minuti che stai in quella posizione del cazzo ti sbacchi un attimo sul ponte inizi a fare conversazione fai due arrosticini sulla prua fai qualcosa no no loro per nove settimane tre mesi non lo so quanto tempo è durato sto viaggio il mare è enorme la loro la loro imbarcazione non è la Enterprise cioè è una barca loro tutto il tempo così dall'inizio alla fine e anche qui sacrifichiamo la sensatezza di quello che si vede la tangibilità di quello che si vede all'estetica al dio dell'estetica no l'alfabeto degli elfi perché devono essere veri tangibili però non esiste un essere umano ma anche fantastico al mondo che starebbe tutto il tempo di un viaggio così lungo in piedi come uno stronzo a guardare l'orizzonte in silenzio non esisterebbe mai una cosa del genere eh ma gli elfi sono esseri austeri esseri eterei no sono stronzi stanno in piedi così e ancora ancora la messa in scena di quella roba funziona perché ci hanno messo il mare piatto come una tavola fammi quella fai quella scena con una tempesta fai fai con gli sgombri che saltano fuori dall'acqua si infilano in faccia agli elfi con i gabbiani che gli cagano in testa e loro così guardano l'orizzonte la merda dei gabbiani che scivola ci avevate pensato a queste cose esattamente come non pensate al demone che si masturba chiuso 3000 anni là dentro che quando esce va a puttane esattamente come non avete probabilmente fatto caso a questi passaggi degli elfi mortali mortali ecco perché non ci sono bambini tutti morti giocando a pallone io odio 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 questi aspetti del fantasy odio detesto a parte il fatto che poi un elfa come Galadria con esperienza millenaria così che cosa fa alla fine decide di non andare a Gardaland la terra degli elfi così si butta in mare con il saggissimo intento di farsela a nuoto cioè già è stata un'impresa titanica stare come uno stronzo così per tutto il tempo te la fai pure a nuoto a tornare fortunatamente lei ha più culo che anima trova 28 passaggi e riesce a tornare sulla terraferma ma più di una cosa per me ha scricchiolato nella messa in scena proprio nel nel modo in cui vengono rese tangibili le situazioni più di una cosa ho apprezzato moltissimo quello che è proprio l'aspetto visivo artistico la direzione artistica di questa di questa serie è incredibile non si sono risparmiati cioè se penso alla prima stagione di Game of Thrones era praticamente aveva la regia di una telenovela spagnola né più né meno è campo contro campo campo contro campo palazzo campo contro campo contro campo qui invece si assiste a moltissime inquadrature complicate moltissime inquadrature di difficile realizzazione ma che danno respiro che rendono l'idea e non parlo dei campi lunghissimi su ste città che a un certo punto cominciano pure a rompere i coglioni perché ti rendi conto che se ne abusa ti fanno sempre vedere ste città enormi sempre col tramonto sempre con gli uccelli che volano a un certo punto fai vabbè una giornata un po' di merda non c'è mai qua è sempre una cartolina a sto posto diventa finto però a parte quello anche durante i combattimenti ci sono inquadrature di due secondi magari inquadrate così a picco dall'alto perché? perché funziona meglio ci avranno perso mezza giornata a montare quel dolly però cazzo funziona vedi delle inquadrature bellissime dei piani sequenza molto molto belli molto molto complicati che però funzionano in Game of Thrones all'inizio sta roba non la vedevi il budget era risicatissimo qui l'hanno usato l'hanno usato bene quindi dal punto di vista visivo dal punto di vista della fattura non ho niente da ridire a parte queste cose che vi sto dicendo che secondo me sono delle puttanate enormi però dal punto di vista della fattura è un'ottima serie ed è uno dei motivi per cui io sono andato avanti a vederla vi dico una cosa non sto facendo spoiler ragazzi sto provando a non fare spoiler a parte questa cosa degli elfi che però ve la dovevo dire perché è troppo grave però non vi dico come vanno a confluire le storie una nell'altra sarebbe veramente uno spoiler una cosa ve la dico credo che molte persone abbiano notato questa noia questa pesantezza perché secondo me hanno ragione a me non dispiace ripeto sono abituato a molto di peggio però le puntate sono estremamente discontinue come ritmo cioè c'è la puntata che ti incolla proprio e ti tiene lì sempre con la bocca aperta a dire oh cazzo cazzo che succede che succede poi c'è la puntata diplomatica tutto intorno a tavola a parlare non è stato gestito secondo me come un prodotto seriale tenendo conto del singolo episodio è proprio tutta una roba fate conto è un film di non so dieci ore quante puntate saranno poi alla fine sono arrivata la sesta è tipo un film di dieci ore che è stato spezzato in punti a casa ogni ora spezzano cioè questo è stato fatto non è che c'è uno studio del finale o magari una specie di costruzione episodio per episodio in modo tale che ogni episodio brilli di vita propria no questo spinge al binge watching perché ci sono episodi così poco soddisfacenti che tu ne puoi vedere un altro per vedere un po' di ciccia altri che invece li guardi e fai oh sono proprio soddisfatto che bello mo vado a dormire questa secondo me è stata un po' la percezione cioè il motivo di questa percezione di estrema pesantezza della serie che poi secondo me così pesante non è si parla un botto ci si parla un sacco addosso si ripetono concetti ancora e ancora però dai pensavo beh da come me la descrivevano pensavo una cosa lentissima dove si dì una serie veramente lenta Dahmer Dahmer la sto guardando è molto molto lenta poi ne parleremo però nella sua lentezza cerca di essere anche un po' ipnotica cerca anche di darti tempo di metabolizzare certe cose questa serie questa anelli del potere ha diversi spunti interessanti ha il potenziale per essere qualcosa di bello ma non riesce a centrare il punto cioè rimane ferma laddove stava ferma la trilogia del signore degli anelli non riesce a fare quel passettino in più e ad offrire qualcosa in più probabilmente perché anche qui si cerca di stare attaccati a Tolkien gli appassionati di Tolkien sono veramente dei nazi letterari allucinanti quando cambi una virgola impazziscono se non riesci a mantenere quel senso di di lettura che hanno avuto gli appassionati leggendo la gente si incazza mi rendo conto che sia veramente pericoloso per chi mette in scena una cosa come il signore degli anelli o gli anelli del potere di scostarsi troppo però io l'avrei l'avrei fatto perché secondo me adesso non conosco il materiale originale però secondo me certe cose potevano essere totalmente tagliate via o eliminate e si sarebbe potuto di concentrare un po' di più su questi elementi microscopici piuttosto che su sta cosa macroscopica che veramente si perde nel nulla a mio parere o ragazzi ovviamente metto anche in conto che potreste scrivermi che questa serie fa schifo perché non somiglia per niente a Tolkien cioè potrebbe essere pure così vi dico un'altra cosa che mi ha fatto veramente cagare secondo me questa è una serie girl power tutto gira intorno a Galadriel che è un personaggio femminile e secondo me gli sceneggiatori di tutto il mondo non hanno ancora imparato una cosa non è che un personaggio forte femminile deve essere per forza un dito in culo non deve essere per forza antipatico Galadriel lo è cioè Galadriel è identica a Capitan Marvel quel livello di irritabilità lì suscita nello spettatore io l'avrei presa a schiaffi a sberle cioè c'ha sempre ragione lei la storia fa di tutto per farti capire che c'ha sempre ragione lei anche quando lei non si affida a qualcosa di oggettivo si affida soltanto a io sono sto cazzo quindi ho ragione poi ha ragione effettivamente però non è che tu sei dalla sua parte perché non si capisce mai perché dovrebbe aver ragione cioè lei sembra soltanto una pazza ossessionata sì ha ragione Sauron sta tornando va bene ma te che cazzo ne sai lo sento lo percepisco ma vai a fanculo e poi è anche un personaggio estremamente antipatico l'hanno scritto antipatico raga è facilissimo scrivere una donna forte simpatica brava dolce è facilissimo è facilissimo essere forti non significa essere stronzi sono due cose molto molto diverse perché sono riusciti a fare personaggi maschili forti come che ne so John McClane e renderlo simpatico a tutti perché lui c'ha un sacco di difetti perché è un coglione perché lo sa che è un coglione ed è pure autoironico i personaggi femminili forti non riescono a fare questo passo in più o perlomeno gli sceneggiatori non riescono a fare questo passo in più e creano queste mazze di scopa hanno tutte la scopa in culo queste donne forti perché? perché una donna forte dovrebbe mutuare tutto quello che c'è di peggio in un comportamento maschile tossico non sei una donna forte sei un uomo stronzo con la fregna perdonatemi il francesismo quindi non lo so perché questa cosa e perché dico che è una serie girl power perché c'è lei non solo ditemi un personaggio femminile negativo negli anelli del potere ditemi la moglie di Durin la dolcissima e comprensiva moglie di Durin la piccola Nari Galadri la salvatrice di tutto lei è la più negativa perché sta antipatica ma non è un personaggio non c'è di uomini stronzi è pieno non c'è un personaggio femminile cattivo altra cosa che io in Game of Thrones ho apprezzato particolarmente cioè ci sono delle donne in Game of Thrones che sono perfide perché perché ci sono anche uomini perfidi è una realtà perfida e quindi questa è la parità per me per me perciò dico è una serie smaccatamente stupidamente girl power questa aliena del potere detta anche questa cosa sganciata anche questa bomba che forse mi farà odiare da molti ma sti cazzi tanto quando si parla di fantasy mi odiano sempre tutti noi ci vediamo al prossimo video e se volete una volta che sarà finita questa serie potremmo pure fare o una live per approfondire oppure fare un altro video per tirare le somme ma io credo che se andrà bene questa prima stagione ce ne guarderemo almeno altre 20 finché come Game of Thrones tutto non morirà malissimo